Salve a tutti ragazzi, eccoci qui oggi con un nuovo video Siamo tornati qua su Yu-Gi-Oh! 2 Links E ragazzi, andiamo a giocare un po' in PvP Non voglio neanche perdere tempo a dire le solite cose dei video fatti non fatti eccetera eccetera Quindi velocemente andiamo a fare qualche partita in PvP Non so neanche bene che rango sono, comunque sono platino qualcosa E non so, vediamo un po' come vanno le partite Ne faremo come al solito o due o tre partite Gioco con il Dino Control, comunque il deck che al momento più mi sta piacendo e facendo divertire Quindi credo che scalerò con questo deck Questo mese, come tutti i mesi ovviamente, proverò a salire fino al grado re dei giochi Negli scorsi mesi ho giocato veramente pochissimo Questo mese, devo essere onesto, un poco poco in più ci sto giocando E quindi dai potremmo anche farcela in questo mese Non voglio dare certezze perché poi ci sono un sacco di imprevisti come al solito E va a finire che non ho il tempo di giocare quindi ovviamente non salgo neanche Niente vediamo un po', mano iniziale abbastanza buona Iniziamo noi come al solito, cosa assolutamente negativa in questa situazione Però va bene Ci posizioniamo il 1900, cioè ci evochiamo il 1900 Ci andiamo a posizionare la supercorsa a testa bassa, carta molto utile In tantissime situazioni Eccola Ci viene praticamente bloccata Non possiamo neanche attivarla E raga Qui la vedo tragica Il nostro avversario ha scolato un bel po' di roba Cosa potrebbe giocare? Deck fenice potrebbe giocare deck Appunto quello là con la sfinge Insomma potrebbe avere varie cose Guerriero bestia, evocazione normale Sì, penso proprio che giochi quello lì esatto con la chimera Quindi appunto la sfinge E il goka pure Ok, altra carta antipaticissima Però va bene così Quindi Distrugge quello Non è stato distrutto Ma devo raggiungere una carta Va bene, eccola qui la sfinge E vediamo un po', sì, ci attaccherà con questo due No, addirittura lo tributa ragazzi Questo non me lo aspettavo Eh vabbè, però se becca il mostro giustamente Eh ok, siamo stati fortunati raga Siamo stati fortunati Altrimenti ci faceva la bua Veramente ce ne faceva tanta E il problema qual è? Il problema è che mi sa Di non poter bersagliare È esatto In nessun modo questa carta di merda Non puoi scegliere questa carta come bersaglio Con gli attacco Gli effetti delle carte Ok Quindi niente Devo assolutamente In gergo Andare a capocchia Con il mio Branchiodonte nero Non attivo l'effetto Perché altrimenti Dovrei spostare il Branchiodonte Il mio avversario si è arreso Raga GG Andiamo avanti Andiamo avanti Eccoci qua Seconda partita raga Quella di prima Il nostro avversario si è arreso Per un motivo Che Una volta distrutto il suo mostro E Non c'era modo Di evitare la distruzione del mostro Non avrebbe avuto nient'altro Per poter Continuare il duello E noi Poco alla volta Avremmo vinto Quindi Meglio che il nostro avversario si è arreso Così vi posso portare Probabilmente Qualche partitella In più Allora Seconda partita che si Preannuncia Molto Molto Semplice Per un motivo Allora Vabbè Posizioniamo il muro di disturbo Semplice perché Se l'Hydrogeddon Riesce A distruggere il mostro Coperto Senza problemi Andremo a fare Un bel po' di danni E infatti ragazzi I danni Arriveranno E saranno anche tanti Per il nostro avversario Quindi 1900 diretti Ecco qui E' vero che Amante rosa Come carta Nel cimitero E' quello che deve fare Cioè devi andare al cimitero Però Sinceramente Subire 1900 danni Al primo turno Risulta comunque pesante Per qualsiasi deck Potrebbe anche attivarne l'effetto Ed evocare qualche mostro La cosa importante per me E' che non mi venga distrutta La carta coperta Cioè muro di disturbo Puoi selezionare Uno o due Selezionare quel numero di carte Ok Cimitero Numero Cimitero Pianto Sotto Viene distrutto Sceglie Versace 5 Silvan Ok Va bene Seconda carta Ok L'albero Va bene Attiva l'effetto Di entrambi Ve lo dico Ve lo ripeto Il Silvan Non è un deck Che conosco benissimo E non ho avuto Né la voglia E nel tempo Di studiarmelo Quindi Giocherò un po' Così A come capita Già nei video precedenti Ve ne siete resi conto Al 100% Che Contro questo deck Quando mi ci trovo Vado un po' A come A come capita Allora Non so cosa potrebbe Giocarmi Forse l'albero No Mi ha giocato quest'altro Che gli fa Disotterrare Praticamente 3 carte Se non sbaglio Da 1 a 3 E Vabbè Mette quel mostro A me l'importante È che non mi Non mi distrugga Le carte coperte E questo patatino Cosa fa Ok E il ritorno Va bene Mi sa che mi spacca qualcosa Se questa è Il bersaglio Distruggi quel bersaglio Porca puttana Ragazzi E raga Guardate Cioè Ditemi un po' voi Se questa non è sfiga Purtroppo sì Vabbè Qua arrivano messaggi Come al solito Muro di disturbo Che mi viene Mandato a quel paese Purtroppo Ho Il terzo Hydrochedone in mano Altra cosa Molto negativa Qua i messaggi arrivano Ma non fateci caso Mi devo ricordare Di silenziare il telefono E niente Questo 2400 Però lo posso Comunque Mandare a casa Lo posso mandare a casa E vi faccio vedere Anche come In una maniera Molto molto semplice Peccato per quella Hydrochedone Che ho in mano Davvero Se non lo pescavo Era veramente ottima La situazione Allora Scavi fossili Andiamo a prenderci Il branchiodonte nero Eccolo qui E andiamo a spostare In posizione Di difesa Il mostro Da 2004 Che è guardia Qualcosa Silvano Qui Quindi effetto Il Silvano Qui va In posizione Di difesa Perfetto E iniziamo Ovviamente Ad attaccare Con il più debole Quindi 1600 Sul 1500 Se ha un curibosfera O un qualcosa Lo giocherà subito Non lo aveva Andiamo ad attaccare Anche l'ultimo patatino Altri 300 life points Quindi GG Abbiamo preso Di nuovo Un vantaggio Tattico Sul terreno Il nostro avversario Ha due carte Ne pescherà una terza Noi abbiamo Due mostri Più tre carte in mano Insomma Siamo in una situazione Di vantaggio Anche più life points Del nostro avversario Diciamo che Non voglio dire Che abbiamo vinto Ma poco ci manca Poco ci manca Abbiamo il branchio Donte nero Ovviamente Lo andrò ad evocare E andrò ad attivarne L'effetto Perché? Perché voglio comunque Un po' vedere Che carta Ha settato il nostro avversario Quindi Andiamo a scoprirla Sperando che non è Quello da 2000 Purtroppo E raga Io le cose me le chiamo Purtroppo Non so Non so che dirvi Eccolo qui Il 2000 Lo ha sculato Il nostro avversario Scula pure Amante rosa Scula pure Quell'altra cosa E raga A questo punto Il game lo perdiamo Ve lo dico Avevamo un vantaggio Della madonna Ma purtroppo Senza la carta terreno Il nostro deck Pecca Pecca molto di punti D'attacco E niente E niente Non ci posso fare niente Anche perché Anche l'elettrosergente Mi serve a ben poco Il branchiodonte Non mi Può essere utile A nulla In questa situazione E quindi Nata de nada Il nostro avversario È vero che ha poche carte Nel deck Ma comunque Prima che finisca il deck Insomma Ci ara Malamente Con questo deck Perché ho capito Comunque Che il Sylvan Riesce In un modo o in un altro Sempre a spaccare Carte magie Trappole e mostri Con i vari effetti Quindi Diventa pesante Arrivato a un certo punto Ecco Già ha beccato Quest'altro mostro Ha beccato Il carotone Qui che lo rievoca 1900 Ottimissima carta Questo ancora Non ho capito bene Che fa Ma mi sa che rimette Qualcosa nel deck E quindi Niente L'unica cosa Mi poteva aiutare Qualche carta Un po' Trappolo magia Come Appunto Controllo avversario Supercorsi a testa bassa Ma purtroppo Ho pescato Un altro elettrosergente E sono stato un po' Sfigato Ecco Con l'effetto Di quest'altro Qui quindi Rimette molte Carte nel deck E allora Niente Devo sperare Di campare Qualche altro turno E di pescare Un controllo Avversario Una supercorsa Insomma Qualcosa Che mi possa dare Un input Per poter poi Ribaltare un po' Questa situazione Per fortuna Ha levato il 2000 E dico per fortuna Perché è una cosa Che mi fa molto piacere A meno che Non ha un piano Per vincere In questo turno Esatto E quindi abbiamo perso Perché altrimenti Con il controllo Avversario Che era probabile Pescare Potevamo Insomma Recuperare il game Ma Il Silvano è un bel deck Non c'è niente da dire Dobbiamo essere onesti È un bel deck Antipatico Probabilmente anche semplice Da fare Per quello che ho visto Non ha molte carte Di rarità alta Quindi Possiamo anche pensare Di farlo Dobbiamo un po' Un po' vedere Sì Anche con un controllo Avversario Non riusciamo A fare nulla A sopravvivere Viviamo Insomma Possiamo sopravvivere Questo turno Ma Servirà ben poco Quindi Peschiamo Eh raga Guardate Le cose Non è che me le chiamo Di più Di più raga Allora Cosa si può fare Per vincere questo duello Niente Perché se gioco Questo è un 1600 Faccio 100 danni In più Posso prendermi il 2007 E andare a fare Altri 800 danni E neanche vinco Quindi Tosta la situazione Tosta 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 Non ho neanche Gli Hydrogedon Perché li ho finiti tutti Fatemi controllare Eh sì raga Ho finito Tutti gli Hydrogedon Purtroppo sono stato sfortunato Altrimenti avrei fatto Hydrogedon Attacco Evoco Hydrogedon Controllo avversario Prendo 2007 Poi Distruggo 1.9 Attacco diretto Con 1.6 E avrei vinto Ma purtroppo raga Non è andata così Io voglio Continuare E penso che poi Concludiamo con questa partita Quindi non ne faremo Un'altra Non mi interessa Insomma preferisco così Concludere Questa Fino alla fine Senza Tagliarvela Perché? Perché potrei In un modo In un altro Cercare di sopravvivere Vediamo un po' Il controllo avversario Comunque lo teniamo Che può garantirci Un altro turno Non si sa mai Non si sa mai Peschiamo un altro muro di disturbo Il nostro avversario Gioca 3 mostri E riusciamo a fare qualcosa Insomma Non si sa mai Ecco vedete Addirittura lui Sposta in difesa Quindi mi dà Un ulteriore Modo di giocare Quindi controllo avversario E quindi raga Non bisogna mai arrendersi Prima regola Yu-Gi-Oh Mai arrendersi Giocare fino alla fine Sì la situazione è tragica È tragica Ma possiamo farcela Allora Fatemi pensare Tutto sta A quello che peschiamo Tutto sta A quello che peschiamo Windstorm Windstorm Non è male Windstorm Non è male Può darci una mano Ma Neanche più di tanto Quindi Ci giochiamo L'elettrosergente A priori Andiamo ad attaccare Il mostro Con 0 punti Di difesa Anche se poi Lo rievocherà Al 100% Prova ad attaccare Sperando che non è il 2000 Perfetto raga Un altro carotone Va bene Va bene così Allora Ve lo dico Con la massima sincerità Questo game Può essere vinto Al momento Come Lui ci gioca Un altro mostro Attacca Noi spostiamo Tutto in difesa Ecco cosa che non è più successa Game perso Ok Ha preso E ritorno Quindi GG No perché altrimenti Grazie al Windstorm Un altro turno Poi Ci serviva un altro controllo Avversario O Un Una supercorsa A testa bassa E il game Lo vincevamo Il game lo vincevamo Ma purtroppo Non ci siamo riusciti Comunque Bellissimo game Bellissimo game È bello quando succede Che Si va in vantaggio Poi in svantaggio Poi in vantaggio Insomma è andata bene Bella partita Il Sylvan è un ottimo deck Ma comunque Siamo stati anche Leggermente sfortunati Già solo per l'aver preso Un Hydrogeddon in più In mano Altrimenti il game Era concluso Già da parecchio tempo Quindi Siamo stati Leggermente sfortunati Però ci sta Ci sta raga Quindi spero che queste partite Vi siano piaciute Spero Che Insomma Abbiate imparato qualcosa Insieme a me Anche perché anche io Ho imparato qualcosa Del Sylvan E niente raga Detto questo Come al solito Vi ringrazio E mi raccomando Iscrivetevi Commentate Condividete questo video Se il video vi è piaciuto Lasciate un like Noi ci vediamo Con il prossimo Bella raga Ciao